C'ho 3.000 servizi, guarda qua sto centralone, ogni servizio un buco, c'ha più buco lui che le strade di Roma, servizio guasti, servizio reclami, servizio opinioni del pubblico, panzi questo è tappato, però tanto queste opinioni chi le sente? C'è il servizio sveglia, servizio tristo, nominato e visto, pronto servizio sveglia, panzi e dica, lei vuole essere svegliato? A che ora il suo nome? A lei è Giorgio di Chirico, vuole essere svegliato? Una parola figlio mio Chi se ne frega, panzi e dica, si signora anche a noi, no niente, era una che ha letto che farà di ballata personalmente il suo quarto figlio Oh scusate, ma a questo punto devo dare una spiegazione, perché non so mica io che rispondo scortesemente a queste telefonate, che proprio hanno istituito la linea per chi se ne frega Per i viaggi di Jacqueline Kennedy, le conferenze stampate da Daelli, per il matrimonio di Titti da Savoia, e tante di queste notizie che in questo campo non mancano, eh?